Buongiorno, benvenuti al consueto appuntamento del venerdì con ospiti e notizie della Piana. Intanto vi presento i miei ospiti. Giorgia Salvatori, che è assessore alle politiche giovanili e non solo, anche altre deleghe, magari ne parleremo, del comune di Campi Bisenzio. Buongiorno. E poi l'altro ospite, ormai lo conoscete, Pier Francesco Nesti, che è direttore di Piana Notizie, è sempre con noi e ci porta sempre tante notizie molto molto interessanti sulla Piana. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Gigliola. Ciao. Allora, intanto parliamo con l'assessore. Ora, ultimamente a Campi Bisenzio c'è stata un'iniziativa meravigliosa, che non tutti forse conoscono, era la terza edizione, che è quello del Festival dell'Economia Civile. Ecco, intanto spieghiamo che cos'è questa cosa, perché non tutti sanno di cosa si tratta. Sì. Allora, buongiorno a tutti. Intanto, l'Economia Civile è un modo nuovo di intendere l'economia. È una riflessione che parte da alcuni valori, che generalmente noi non li chiama l'economia, come la reciprocità, la gratuità, la felicità pubblica, la persona al centro, e che attraverso questi approfondimenti tenta di proporre dei modelli di sviluppo innovativi per dare delle risposte concrete ai bisogni della comunità. Noi lo stiamo facendo ormai da tre anni a Campi Bisenzio e il Festival è un appuntamento dove da un lato ci fermiamo e raccontiamo quello che abbiamo realizzato nell'anno precedente e ci proponiamo degli spunti da portare avanti nei mesi e negli anni successivi. Tra l'altro è anche un Festival della partecipazione, questo direi, proprio. È il Festival della partecipazione, quest'anno raddoppiata rispetto all'anno precedente, un festival che è stato territoriale, quindi con una grande partecipazione dei cittadini, dell'associazione del territorio, delle imprese del territorio e quindi siamo molto contenti e questa è la strada, diciamo. Cosa è venuto fuori, diciamo, intanto da questa edizione rispetto alle altre? Allora, innanzitutto si è fatto un grande lavoro sui temi del responsabilità sociale di impresa, con le nostre imprese del territorio, l'idea di portare avanti un progetto, una rete territoriale di imprese che fanno responsabilità sociale di impresa, cioè che decidono di investire una parte dei propri utili sul territorio in progetti sociali, culturali e di attenzione all'ambiente. Poi una riflessione sul tema dei beni comuni con la prossima approvazione del regolamento dell'amministrazione condivisa, che è un nuovo modo di gestire e di curare anche la comunità dell'amministrazione insieme ai cittadini, un lavoro che si sta facendo sugli orti urbani, quindi ci saranno degli orti urbani, orti sociali aperti a tutta la comunità e che saranno anche condivisi, quindi saranno luogo di aggregazione e poi un punto importante è stata la firma di un manifesto da parte di più di 70 comuni già in aumento, che è la costituzione di una rete dei comuni toscani e della regione sull'economia collaborativa e l'innovazione civica, che è un traguardo importantissimo perché in Toscana sono tanti, siamo in tanti a promuovere sui nostri territori buone pratiche sull'innovazione, siamo sempre quasi isolati, la rete serve a unire le voci e le forze e dire che noi ci proviamo e riusciamo a fare innovazione sui nostri territori. Io volevo chiedere, volendo fare un esempio di qualcosa di concreto che è stato raggiunto in questi tre anni, si è discusso e si è parlato tanto anche negli anni precedenti per esempio di regenerazione urbana, di temi legati all'ambiente, ci fai un esempio di qualcosa di concreto che è stato fatto, non che quello che tu abbia detto non lo sia, per l'amor di Dio, però appunto di realizzato, di obiettivi raggiunti. Allora, in diversi ambiti noi abbiamo raggiunto già degli obiettivi, nella lotta allo spreco alimentare per esempio abbiamo costituito una rete territoriale, acquistando nello specifico degli abbattitori, adesso i primi due ma ne acquisteremo altri in tutte le scuole del territorio per recuperare il cibo avanzato e ridistribuirlo grazie alla Caritas e alle nostre altre associazioni di volontariato a chi ne ha bisogno. Abbiamo aperto l'emporio solidale che ora stiamo rilanciando, che è una biblioteca degli attrezzi per chi appunto non può permettersi o per chi non ha, facciamo un esempio, un trapano in casa e quindi lo prende in prestito e restituisce il prestito in volontariato civico, cioè in cura della comunità. Per quanto riguarda l'ambiente stiamo lanciando, abbiamo lanciato lo sportello Amianto e ora stiamo lavorando con le imprese del territorio sull'economia circolare, è stata approvata da poco una legge dalla regione toscana e in questo senso noi stiamo investendo e anche promuovendo questo processo anche nelle nostre aziende. Il volontariato civico che è un tema diciamo poco conosciuto però per noi è fondamentale perché significa che i cittadini si prendono a cuore alcuni pezzi di comunità e insieme a noi provano a gestirli. Quindi sono tutti piccoli grandi passi che tentano di dare risposte concrete ai bisogni diciamo sempre più urgenti anche della comunità. Tra l'altro, Giliola, corregimi se sbaglio, l'emporio di cui parlavi è stato realizzato in un immobile di quelli confiscati alla mafia, quindi un ulteriore modo per dare concretezza. Ed è stato realizzato con l'Erua Merlen, quindi anche questo scambio profit no profit è molto interessante nel panorama di Erno. Il Comune di Campi e Bisenzio è molto attento al territorio, avete altre iniziative importanti? Abbiamo altre iniziative importanti in Ponte, un lavoro che faremo coinvolgendo tutte le associazioni del territorio e che presenteremo insomma tra qualche tempo. Abbiamo idea di costituire un luogo che sia il luogo dell'innovazione che si chiamerà Urban Center come altri che ce ne sono appunto in Italia, un lavoro che vorremmo fare diciamo sul fiume lavorando un po' sul percorso che il fiume Bisenzio fa attraversando tutto il nostro territorio e che quindi include e accoglie tanti pezzi della nostra comunità. Insomma, tanti sono i progetti. E poi mi diceva prima di non chiamarle frazioni ma di chiamarli centri c'è un'attenzione particolare verso i centri, io sono abituato a chiamarli frazioni però va bene per questa volta glielo concediamo, i centri appunto del Comune di Campi ci spieghi perché centri è quello che state facendo. Allora, centri e non frazioni perché per noi il territorio è molto vasto ma per noi è policentrico, cioè non è fatto da un centro e le varie periferie ma da tanti centri che hanno le loro caratteristiche, la loro identità e la loro storia e quindi vanno valorizzati diciamo in questo modo. Noi abbiamo in mente e stiamo strutturando una progettualità che coinvolgerà tutti i centri del nostro territorio saremo molto presenti diciamo sul territorio da qui in avanti in varie modalità che poi vi racconteremo e faremo un lavoro molto importante sulla comunità quindi sulle varie comunità che rappresentano diciamo i nostri centri quindi sarà una priorità ecco per noi. Ma queste comunità già dialogano direi no? Le comunità già dialogano, ne hanno bisogno in realtà non solo perché geograficamente sono confinanti ma perché è la nostra storia no? Quella anche un po' della comunicazione e dello scambio e poi Campi diciamo è una comunità appunto fatta da tante diversità che spesso sono complementari e quindi anche si arricchiscono reciprocamente. E poi mi diceva un'altra cosa interessante mentre eravamo diciamo fuori onda che non sono le frazioni diciamo giuridicamente riconosciute San Piero a Ponte, Sant'Angelo a Lecore fanno parte di questo progetto ma anche quelle che non sono giuridicamente riconosciute dove però chi ci vive ha un profondo senso di appartenenza. Sì esatto, noi abbiamo fatto questa riflessione pensando proprio ai centri e legandole anche al senso di appartenenza, al senso di identità che il cittadino percepisce della zona in cui vive e che per caratteristiche geografiche come dire si distinguono da altri pezzi della città. Faccio solo un esempio ma poi ve le racconteremo in modo dettagliato Santa Maria, San Lorenzo, San Martino noi generalmente giuridicamente appartengono al centro in realtà sono delle zone ben definite che i cittadini raccontano in maniera assistante e le vivono anche in questo senso e quindi noi siamo contenti anche di poterle valorizzare. Quindi c'è dietro anche una storia vecchia di relazioni? Una storia vecchia di relazioni, vecchia e nuova nel senso che le relazioni diciamo evolvono ma per noi è importante ripartire da quelle tradizioni, da quella storia che le ha concepite, le ha in qualche modo anche strutturate così come noi oggi le vediamo ma proponendogli diciamo dei passi avanti su quei temi che comunque ci rendono una comunità unica ma che tentano poi a far venire fuori anche le peculiarità dei territori e delle varie storie. Volendo parlare di una tradizione molto conosciuta di Campi Bisenzio cosa ci può venire in mente? Una tradizione molto conosciuta di Campi Bisenzio Verrebbe in mente le penne alla pecora ma insomma questa è un'altra A parte, ma anche quella è tradizione Certo, certo Per esempio i giochi san martinesi i giochi rionali sono una tradizione molto forte No, però, detto scherzando le penne alla pecora però tornando serio sono già tre anni se non mi sbaglio o tre o quattro anni viene fatto un palio della pecora a Campi Bisenzio per rivitalizzare quello che è comunque il piatto principale del territorio E la gente si riconosce diciamo in queste tradizioni? La gente si riconosce, sì Tra l'altro in realtà secondo me alcune sono proprio da riscoprire anche da parte delle persone ce lo chiedono e noi sentiamo che da un lato bisogna proprio ripartire da quelle tradizioni storico-culturali che hanno caratterizzato il nostro territorio quindi sarà anche questo un punto d'attenzione nel lavoro nei nostri centri Pier Francesco, adesso parliamo delle notizie della Piana facciamo vedere anche il sito Certo, grazie Come tutti i venerdì Campi hanno votato la scorsa estate Invece Calenzano e la Strassigna voteremo nel 2019 quindi tanta politica tante interviste stanno uscendo fuori i primi candidati a sindaci quindi stanno trovando spazio su Piana Notizie e poi una notizia curiosa la Strassigna si è appena costituita l'associazione dei veterani dello sport e la sezione delle signe che è intitolata Fulvio Onesti è solo un omonimo mio non c'è nessun grado di parentela però mi sarei stato orgoglioso di esserne parente perché è stato un calciatore famoso e ha vestito la maglia dell'Inter la maglia della nazionale appunto veniva dalla Strassigna è una costituzione fresca fresca di questi giorni di due giorni e troverà spazio anche questa su Piana Notizie ricordo www.piananotizie.it un sito da seguire perché ci sono veramente delle notizie interessanti della Piana e il tempo a nostra disposizione purtroppo sta per finire ringrazio i miei ospiti l'appuntamento per tutti noi e al prossimo venerdì grazie a tutti